La terminologia tipica dello scautismo utilizza molto il termine strada, come valore significativo nella vita dei ragazzi, giovani e adulti. Vorrei incoraggiarvi allora a proseguire il vostro cammino, che vi chiama a fare strada in famiglia, fare strada nel creato, fare strada nella città. Camminare facendo strada, camminanti, non erranti e non quieti. Sempre camminare, ma facendo strada. Con queste parole, Papa Francesco si è rivolto a più di 7.000 scout del movimento adulti scout italiani, incontrati in Aula Polo VI in occasione del 60esimo anniversario di fondazione. Fare strada in famiglia, ha spiegato, significa riaffermare che l'educazione in famiglia costituisce una scelta prioritaria di genitori verso i figli, ma anche dei figli verso i loro fratelli. Fare strada nel creato, perché la questione ecologica ha una dimensione morale che tocca tutti, significa anche eliminare gli sprechi in una società che tende sempre più a scartare beni ancora utilizzabili e che si possono donare a quanti sono nel bisogno. E infine fare strada nella città, per offrire a chi vive situazioni faticose e rischia di smarrirsi un cuore vicino, un cuore orientato con il senso di Dio. Dopo aver donato a Papa Francesco un fazzolettone azzurro, gli adulti scout hanno rinnovato davanti al Papa, tutti insieme, la loro promessa scout. Grazie a tutti.